Conclusosi anche il secondo turno di prove ufficiali dell'International GT Open sul circuito dell'Hungaro Ring. Salta sui cordoli la McLaren 650S di Comledogar a lungo in vetta alla classifica nella prima parte di sessione ma il francese ha chiuso solo al setterzo posto per lui la terza piazzola in grilla in 1.43.199. Beffato dall'inquadrato Thomas Jöger nel finale il tedesco ha portato la Mercedes al rilevamento di 1.42.724 prova maiuscola per il collaudatore ufficiale della casa di Stoccarda. Ma in pole position per la prima volta è andata una delle più belle sorprese del campionato. Eccola qui l'inquadrata BMW M6 di Fran Rueda lo spagnolo del Theo Martin Motorsport in coppia con Victor Boveng Reduce dal successo di gara 2 alle Castelè e partirà così dalla pole position in Ungheria lungo i 4.381 metri del circuito Magiaro. Quasi impossibile sorpassare dunque un'opzione importantissima sul successo finale grande prova della casa bavarese e le congratulazioni del team Theo Martin Motorsport a Fran Rueda.